Io non desidero parlare perché sono molto aggirata, mi dispiace. Così aveva detto il giorno dopo la rapina Rosanna Vitale, 81 anni all'epoca dei fatti, moglie di Nicola Vitale, ex avvocato. Il colpo era venuto il 21 dicembre 2022. L'anziana era stata legata e rapinata da un malvivente armato con una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Nicola e Rosanna sono i genitori di Sossio Vitale, anche lui legale, ed ex consigliere comunale. Nelle ultime ore la svolta nelle indagini della polizia ad organizzare il colpo la stessa badante della vittima, un'italiana di 40 anni. Quel giorno il malvivente aveva atteso che il marito dell'anziana, entrambi oltreottantenni, uscisse per alcune commissioni. Poi aveva fatto irruzione. Prima aveva immobilizzato la collaboratrice domestica, sua complice, e poi la povera anziana, terrorizzata. Sotto la minaccia dell'arma si era fatto consegnare soldi, orologi di valore e gioielli. Quando il marito della vittima era rientrato, suonando il citofono, il rapinatore si era dato alla fuga. Immediate le indagini della squadra mobile della polizia. Qualcosa nel racconto della badante non tornava. La donna aveva infatti fornito dichiarazioni artatamente precostituite, ma soprattutto mentiva sulla sua effettiva residenza e sulla reale composizione del nucleo familiare. Gli accertamenti hanno portato alla verità. Ad organizzare il colpo era stata proprio lei la badante, assieme all'ex marito, un cittadino straniero che viveva clandestinamente nella sua abitazione e con il quale aveva riallacciato una relazione sentimentale. Nella perquisizione effettuata nella casa della donna, i poliziotti hanno trovato e sequestrato il giubbino indossato da rapinatore e delle fascette da elettricista dello stesso tipo utilizzate durante il colpo, tutto occultato in un vano ricavato all'interno della casa della quarantenne. I due sono stati denunciati per concorso in rapina pluriaggravati in abitazione. L'uomo, subito dopo il colpo, era fuggito all'estero. L'autorità giudiziaria, facendo propri risultati investigativi della squadra mobile di Treviso, ha emesso nei confronti degli indagati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Grazie a tutti.